Stringere la cinghia e sperare nelle nuove assunzioni del mondo della sanità è l'unica alternativa alla chiusura dei reparti. Tempi bui per l'ospedale Umberto I di Nocele Inferiore e in particolare per il reparto di terapia intensiva neonatale. È da un mese che si lavora in emergenza. In affanno gli infermieri che da fine dicembre devono coprire anche il nido. Sono state presentate due diffide. La prima firma degli stessi operatori sanitari, poi avallata dalla Fisi. La seconda arrivata dall'USB nella giornata di ieri. Dalla direzione sanitaria spiegano che gli infermieri hanno avuto le risposte perché sono state fatte diverse riunioni. Il direttore Alfonso Giordano è consapevole che esiste un problema perché è legato all'aumento delle bronchioliti e quindi c'è un numero superiore di degenti. Tra l'altro, considerata la loro età e vulnerabilità, non possono certo essere rimandati a casa in tempi brevi. In questi giorni comunque si sta agendo su personale aggiuntivo. Un infermiere è stato distaccato alla TIN, anche se è in affiaccamento, e un altro al nido. Altre soluzioni non ci sono, afferma il direttore sanitario. O arrivano gli infermieri o chiudiamo il nido, ma se chiudiamo il nido dobbiamo chiudere l'ostetricia. Una dichiarazione che è una provocazione, un'estremizzazione di una situazione al limite di cui tutti sono consapevoli. Prima di tutto i dirigenti, che sono consci anche dei numeri dell'Umberto I. Il 2018, per esempio, si è chiuso con 1.570 nascite. Dalla direzione sanitaria si esprimono pure sulla paventata richiesta di trasferimento di massa avanzata da 25 infermieri della TIN. Spiegano che cadrebbe nel vuoto, la professionalità acquisita negli anni dagli infermieri della terapia intensiva neonatale li rende infatti quasi insostituibili.